9.000 nuovi poveri a quantificare l'impatto devastante del coronavirus sul tessuto sociale è il decimo report dell'osservatorio della Caritas di Firenze, che ha fatto un bilancio degli ultimi 12 mesi, quelli dall'inizio dell'emergenza, mettendo insieme i dati raccolti dai servizi Caritas, con le testimonianze degli operatori e dei volontari impegnati nei centri d'ascolto territoriali. Sono 8.919, per la precisione, le persone che si sono affacciate al circuito Caritas per la prima volta nella loro vita, proprio nel periodo della pandemia, e che non avevano mai avuto bisogno di aiuti, in molti casi nemmeno dei servizi sociali del Comune. Confrontando i dati raccolti tra metà aprile 2020 e febbraio 2021, con quelli degli stessi mesi dell'anno precedente, emerge come il numero delle persone fisiche che si sono presentate ai servizi sia aumentato del 42%, il 27,8% del totale sono appunto i nuovi poveri, molti dei quali dichiarano di avere un reddito insufficiente per fare fronte alle normali esigenze. Secondo il profilo della nuova povertà, disegnato dai dati Caritas, si tratta soprattutto di uomini, si è ridotta, seppur in modo molto lieve, la componente femminile, d'età compresa tra i 35 e i 54 anni, in gran parte stranieri, sebbene gli italiani siano aumentati del 10%. Oltre ai numeri, i racconti dei volontari lasciano emergere una società in trasformazione, mentre in città la situazione è grave e complessa, le periferie più limitate per territorio e popolazione resistono meglio grazie a una rete di solidarietà ancora efficace.